Kim Rossi Stewart e Ilaria Spada aspettano il loro secondo figlio. L'attore e la collega sono insieme ormai da quasi un decennio, anche se si sono sposati solo da pochi mesi e hanno deciso di allargare la famiglia. I due hanno infatti già un altro figlio, Ettore, che quest'anno compirà 8 anni. A rendere pubblica la notizia della nuova cicogna in arrivo è stato il settimanale nuovo che nel numero ne dico l'ha pubblicato le foto paparazzate di Ilaria con un pancione ormai più che evidente. Non si sa ancora se si tratta di una femminuccia o di un altro maschietto, ma ha detto a degli amici della coppia, Kim e Ilaria sono al settimo cielo e non sono troppo interessati al sesso del nascituro.